In questi giorni, grazie anche da parte mia che ha organizzato questo evento, a Nicola, agli organizzatori, a Vaccari, che in pochi giorni sono riusciti a mettere in piedi questo appuntamento importante. In queste ore si sta parlando molto della foto di Narni, no? Non c'è giornale che apriamo sito che non parli della foto di Narni, ed è stato bravissimo il nostro amico De Rebotti a far diventare Narni centrale nella politica nazionale. Però io credo che ci siano delle foto ugualmente importanti, molto importanti, che noi abbiamo messo troppo presto nel cassetto o addirittura non abbiamo neanche sviluppato e guardato bene. E sono le foto di Bari, le foto di Bergamo, le foto di Firenze, le foto di Ancona, di Brescia, di Lecce, di Reggio Emilia, di Prato, ovviamente anche di Pesaro, di tutte quelle città come Martabotto, dove nello stesso giorno gli elettori hanno dato due voti completamente diversi. E siccome noi, gran parte dei sindaci dove abbiamo vinto è successa la stessa cosa, i comuni più piccoli neanche il selfie ci siamo fatti, altroché la foto. E siccome noi quest'estate abbiamo fatto un'operazione molto importante, perché abbiamo fermato il delirio di onnipotenza di Salvini con il Parlamento e con la democrazia e la Costituzione, noi però Salvini prima o poi e i populisti in generale dovremmo sconfiggerli nelle urne. E noi non siamo andati a vedere effettivamente che cosa è successo in quelle città. E io credo che se il Partito Democratico, il nuovo centrosinistra, poi dirò, vuole avere la forza per battere i populisti nelle urne, non può fare a meno dei sindaci popolari. Perché i sindaci popolari e i sindaci riformisti hanno già battuto il populismo. Il populismo evocava anche nelle nostre città i problemi. E noi con fatica abbiamo provato a risolverli. Il populismo anche nelle nostre città ha buttato benzina sulle tensioni. E noi invece abbiamo buttato acqua sulle tensioni. Perché sappiamo che la coesione sociale è un elemento fondamentale e le tensioni creano maggiore insicurezza. I populismi fomentavano l'odio e il razzismo anche nelle nostre città. E noi invece abbiamo dimostrato, Giorgio a Bergamo c'ha questa esperienza straordinaria dell'Accademia per l'Integrazione, tanti sindaci l'hanno fatto, abbiamo dimostrato che l'integrazione è a sicurezza e che le nostre città senza integrazione sono meno sicure. E abbiamo difeso, anche in queste ore, credo che dobbiamo farlo tutti insieme, Liliana Segre dagli attacchi di odio, dagli attacchi razzisti. Perché noi facendo i sindaci nelle nostre città difendiamo non solo i valori della memoria, ma garantiamo a Liliana tutti i testimoni che abbiamo avuto della pagina più brutta dell'umanità che quella memoria non verrà dimenticata, che saremo noi nei nostri comuni a tenere accesa la fiaccola e a batterci contro il razzismo affinché questo non avvenga più. I populisti, anche nelle città, tolgono le panchine, noi le mettiamo le panchine, noi portiamo la vita dove c'è degrado, noi pensiamo che investire in cultura e in bellezza non solo faccia bene all'economia, e il bonus del 90% introdotto questa mattina da Franceschini è una bella notizia, non solo faccia bene all'economia ma fa bene alla sicurezza di quelle città, perché una città più bella è una città più sicura, una città più viva è una città più sicura. Abbiamo dimostrato nelle nostre città che i populisti possono perdere e possiamo anche sconfiggere la loro propaganda, perché è qui che c'è il vero riformismo. Noi nei territori cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti a spiegare con fatica, stando in mezzo alla gente ma anche utilizzando bene i mezzi di comunicazione, compresi i social, la fatica del riformismo, la fatica del gradualismo, altrimenti non avremmo vinto. Allora è evidente che quello che è successo ha a che fare con lo scenario nazionale attuale. Intanto io ritengo che a delle città si dimostra che quest'idea che nel fronte riformista occorra dividersi i compiti tra chi fa la sinistra e chi fa il centro è un'idea vecchia, superata dai tempi. Quelli che hanno votato per me in comune e che hanno votato per la Lega alle europee cosa sono? Moderati quando votano per me? Sono estremisti quando votano per la Lega? Sono elettori che negli ultimi cinque anni hanno cambiato continuamente il voto. E allora quest'idea di riorganizzare il fronte politico con schemi del passato è un'idea sbagliata. È un'idea sbagliata di chi se n'è andato ed è un'idea sbagliata se nel nostro partito c'è chi pensa che adesso noi possiamo tranquillamente rifare il PDS o la sinistra, perché noi saremo morti. È un'idea proprio sbagliata di analisi politica, perché siamo dentro la fase più fluttuante che c'è stata nella storia degli ultimi decenni. Dov'è il centro? Che cos'è il centro in questa discussione? È ora evidente che, lo ha detto a Matteo prima che lasciasse e facesse un'altra scelta. I sindici uniscono, non dividono. Noi nelle nostre città abbiamo unito, non abbiamo diviso. Abbiamo costruito delle coalizioni pur sapendo che le coalizioni funzionano se la leadership è forte e rispettata. Se noi nelle nostre città avessimo avuto problemi di maggioranza continua e attacchi continui all'interno della maggioranza, noi non avremmo vinto i nostri comuni. E lo dico perché chi se n'è andato sono tutti amici con i quali abbiamo fatto un tratto di strada insieme. Nei ragionamenti che fanno, in privato se non altro, c'è quest'idea che i partiti democratici sono uno strumento superato, che non funzioni più la democrazia applicata ai partiti e invece noi siamo qui come ha detto Antonio poco fa, perché noi crediamo nel partito democratico e non crediamo nei partiti personali, perché noi pensiamo che si possa stare in un partito democratico e che quella leadership però deve essere rafforzata, rispettata, perché altrimenti non siamo competitivi e noi dobbiamo risolverlo questo problema. Perché se noi facciamo un congresso, ogni volta che facciamo un congresso, il congresso rinizia il giorno dopo, noi non solo sbagliamo, ma non vinciamo più un'elezione. E al tempo stesso i sindaci continuano a avere, l'abbiamo visto anche oggi, ho girato un po' tutti i tavoli, ho sentito i vari interventi, una grande voglia di cambiare le cose, hanno l'ansia di cambiare le cose, non perdiamo l'ansia di cambiare le cose. Mi è capitato l'anno scorso di fare un libro che parlava dei sindaci e partiva da quest'idea, da questa domanda che mi sono fatto, ma perché i sindaci sono così famosi tra i bambini? Sarà capitato ad ognuno di voi, no? Ti conoscono, ti salutano, addirittura ti chiedono l'autografo. Parlando con i miei figli è venuta fuori la risposta, la risposta è banalissima. Per i sindaci, per i bambini il mondo conosciuto è la propria città, il mondo al quale riescono a dare un confine, un'identità alla propria città e di conseguenza vedono nel sindaco la persona più importante perché è il capo del mondo conosciuto. E al tempo stesso, ci sono delle gag con mio figlio carinissime perché un'assemblea come questa mi avrebbe detto alla fine della riunione, ma perché quello lì l'han chiamato sindaco, quello lì l'han chiamato sindaco, per lui ovviamente c'è un sindaco solo, è il sindaco della sua città, e gli devo spiegare che ce ne sono 8 mila, così come pensano molti che sia molto più importante di altre figure istituzionali. E al tempo stesso, parlando con ognuno di voi in questi anni, abbiamo incrociato molto le nostre esperienze, nonostante che ci lamentiamo continuamente perché i sindaci hanno maggiori responsabilità e minori indennità, lavoriamo H24 e rischiamo, come è stato detto, un avviso di garanzia un giorno sì, un giorno sì, nonostante questo a chiunque di noi se venisse intervistato fuori da questa sala diremmo che il sindaco è la cosa più bella che abbiamo fatto. E se ci pensate ritorna fuori quel bambino, quel ragazzino che è dentro di noi, che quando abbiamo deciso di impegnarci nella politica per la nostra città, non l'abbiamo fatto esclusivamente per una legittima ambizione personale, l'abbiamo fatto perché vogliamo cambiare le cose. Ed è per questo io dico che spesso e volentieri quando inauguriamo un'opera pubblica io provo un piacere fisico. Non vorrei essere ardo oggi pomeriggio e domenica, poi mi hanno detto che questo è anche un luogo di proprietà religiosa, non mi sembra il luogo più adatto. Ma è così perché ripercorriamo, come è stato detto, la fatica che abbiamo fatto nell'ideare, nel trovare il finanziamento, nel superare la burocrazia. L'ansia di fare le cose è utile al Partito Democratico, l'ansia di risolvere i problemi è utile al nostro Paese e sta nei nostri territori. E allora anche qui, sul quadro delle alleanze, io credo che dobbiamo uscire dall'ipocrisia, in questi giorni ne abbiamo parlato un po' anche tra di noi. O noi pensiamo che il governo che è nato debba durare, come tutti diciamo, tutti lo diciamo, fino alla fine della legislatura e almeno fino all'elezione del Presidente della Repubblica. Allora, se quello è il film, come possiamo pensare che governare insieme tre anni non vada a cambiare il quadro politico? O pensiamo davvero che i prossimi mesi si vada a votare, allora sì, è un'alleanza d'emergenza. Ma se invece è il ragionamento un altro, è evidente che noi dobbiamo fare come sta provando a fare Nicola, tutti i tentativi per provare ad ancorare un nuovo polo riformista europeista, quel pezzo di società che oggi è rappresentata nel Movimento 5 Stelle. Non è facile, non è facile per noi, ma non è facile neanche per loro, ma loro dovranno scegliere. Perché io l'impressione che ho è che in Italia e in Europa si stia creando un nuovo bipolarismo che non è magari più esattamente destra-sinistra, come noi l'abbiamo classificato, ma che vede da una parte i riformisti, gli europeisti e dall'altra i populisti e i sovranisti. E ci sono due forze politiche che dovranno decidere da che parte stare, che oggi ancora stanno con un piede di qua, un piede di là o giocano nell'ambiguità. Uno è il Movimento 5 Stelle e l'altro è Forza Italia. Se è vero che noi siamo l'alternativa al populismo, è chiaro che dobbiamo provare a crescere con una nostra proposta politica, dobbiamo provare a far crescere il polo europeista e riformista. Non dipende tutto d'oggi dall'Umbria, forse abbiamo sbagliato a caricarla troppo di significato anche noi, perché l'Umbria ha problemi che vanno ben al di là delle dinamiche nazionali, lo sappiamo, e nonostante tutto oggi ce la giochiamo. Siamo competitivi, cosa che fino agosto non eravamo neanche. È una strada difficile, mi rendo conto. Io sto provando a sperimentarla nella mia città, abbiamo dato una delega alla consigliera 5 Stelle e Giorgio mi ha detto subito che che fretta hai. Nessuna fretta. Però penso che se è questo lo scenario, dobbiamo provare laddove ci sono le condizioni. È chiaro che dove sei stato denunciato o insultato dalla mattina alla sera non ci sono le condizioni. Laddove magari ci sono condizioni migliori, dobbiamo provare a mettere in gioco anche questa idea. E allora noi abbiamo una grande opportunità oggi, perché abbiamo tanti sindaci del PD e abbiamo un rapporto con il Governo rinnovato. Io non sto qui ad elencare, vado veramente alla chiusura, tutte le cose che oggi abbiamo posto nella parte corrente e nella parte degli investimenti. Rieleggeremo a Rezzo Antonio De Caro, Presidente dell'Anci, che ha fatto un ottimo lavoro in questi anni e se verrà rieletto come sarà rieletto è perché i sindaci che sono qui hanno fatto un grande gioco di squadra. Non hanno fatto prevalere personalismi e abbiamo impedito che la destra si infilasse rimettendo in discussione gli equilibri all'interno del Lanci. Del resto i sindaci hanno un difetto che io ritengo un pregio. Nicola, non sono correntisti. Sarà difficile trovare dei sindaci correntisti, ma c'è un motivo, perché noi decidiamo come minimo 10 cose al giorno e non possiamo chiedere ogni decisione che prendiamo il Consiglio al capo corrente di turno. Quindi per noi diventa difficile essere organici a una corrente interna. Abbiamo questa caratteristica e vogliamo metterla in gioco sulle richieste che abbiamo fatto per il Governo, sugli investimenti. Diamo gambe a quello che abbiamo detto, investimenti sulle periferie, investimenti sul green, trasformiamo le città, una nuova urbanistica. Andrea ha una proposta molto forte. Cambiateci il codice degli appalti. Guardate, ci sono due cose. C'è una cosa che ha fatto bene l'ultimo Governo prima del nostro. Una delle poche cose. Ha aumentato a 200 mila euro la possibilità di dare lavori nei territori. Allora, la dico così. Noi non possiamo, per colpire pochissimi disonesti, imbrigliare migliaia e migliaia di sindaci onesti che non riescono a mettere in moto il Paese come potrebbero mettere in moto. C'è un preconcetto di fondo. Noi vogliamo essere protagonisti della ripresa. Il Governo populista che c'è stato fino a luglio ha bloccato l'Italia. Noi possiamo rimettere in moto l'Italia. Lo possiamo fare con gli investimenti. Poi abbiamo fatto questa proposta. Antonio, devo dire, Amisiani l'ha studiata, questa della riduzione dell'IVA per gli investimenti green o gli investimenti scolastici. L'IVA non è toccata e ovviamente ci rendiamo conto che non è possibile riprenderla. Ma se in futuro si dovesse ragionare su un equilibrio migliore delle aliquote IVA io credo che noi dovremmo ritornare a bomba anche su questa proposta. Inoltre, credete nella nostra autonomia. Quest'operazione degli asili è una delle poche cose che noi possiamo concretamente realizzare in poco tempo. Non inventatevi cose astruse. Date i soldi ai comuni. Poi decidiamo noi se ci servono per pagare lo stipendio delle maestre, se ci servono per aprire un asilo nido in più o se ci servono per azzare le teriffe. L'Italia è molto diversa da questo punto di vista e non facciamo investimenti che poi rimangono sulla carta e che non producono quel cambiamento che serve, che in questo caso significa dare una mano alla natalità, che è un grande problema strutturale nel nostro Paese. E inoltre, date dignità ai sindaci. Giorgio ha rilanciato in apertura questa proposta che nasce da Ali, il primo firmatario insieme a Misiani e Mancini. Ci sono tanti parlamentari nostri che l'hanno votata. Non è dignitoso chiedere a un sindaco di fare il sindaco senza neanche prendere 1.500 euro netti al mese. È molto semplice. Non chiediamo di aumentare l'indenità dei sindaci. Noi chiediamo di utilizzare, anzi, anche se ce lo pagheremo noi come Comune. Abbiamo tagliato i parlamentari. Dimostriamo che quello non era un taglio alla democrazia. Se crediamo nella buona politica e nella democrazia, riequilibriamo il rapporto tra parlamentari e amministratori. Diamo dignità e la possibilità ai sindaci dei piccoli comuni, che sono quasi dei piccoli eroi dei volontari, di poter svolgere quel ruolo. Altrimenti non ne troveremo più. O la politica la faranno nei piccoli comuni in particolar modo soltanto i pensionati con un'ottima pensione o coloro che se lo possono permettere. E fatesi riformare il Paese. Noi siamo fermi al referendum che abbiamo perso. Non possiamo né continuare a dire alla gente che avete sbagliato quella volta che avete votato no, ormai è andata. E non possiamo neanche continuare a far finta di nulla in una confusione generale. Aiutateci ad aggregare i comuni non dall'alto ma autonomamente dal basso, incentivando le unioni, incentivando le fusioni in un disegno nazionale. Aiutateci a fare un tagliandala del Rio perché le province, così come sono, non funzionano. Dobbiamo farle diventare davvero casa dei comuni e luogo di semplificazione amministrativa, visto che sono, come dire, organo dove stanno i sindaci. Non si capisce perché oltre ai consigli provinciali e all'assemblea dei sindaci dobbiamo avere gli Ato o gli Ata, ad esempio. Non si capisce qual è il motivo. E al tempo stesso sulle regioni. Non voglio scendere sul tema dell'autonomia, ma è evidente che c'è un problema di fondo. Tu non puoi fare l'autonomia pensando a tre regioni in Italia. Non funziona. E allora, se il tema dell'autonomia è un tema nazionale, deve riguardare tutto il Paese. Ma se deve riguardare tutto il Paese non possiamo avere regioni troppo piccole. E se non possiamo avere regioni troppo piccole non possiamo neanche avere regioni che creano un nuovo centralismo regionale. Perché noi siamo per l'autonomia, contro i centralismi, che siano statali o regionali. Allora, facciamo diventare questa occasione che abbiamo anche una grande occasione di riforma del Paese. Noi, Nicola, come vedi, ci siamo. Siamo una grande energia locale a tua disposizione e dell'Italia. Non disperdiamola perché sarebbe davvero un grande peccato. Buon lavoro a ognuno di noi.